Benvenuti, ben ritrovati, oggi Res Pubblica Sicilia chiama Europa, ancora una volta suddivisa in due parti, apre con l'attuale presidente del CDA della Trapani Servizi, la società che si occupa di gestione dei rifiuti in generale, o meglio della discarica soprattutto, ma va anche oltre per quanto riguarda la problematica dei rifiuti, cioè l'ex sindaco di Valderice Mino Spezia, è preciso ex sindaco di Valderice perché ho voglia di chiedergli pure qualcosa più in line, più avanti nella trasmissione sulla situazione politica a Valderice, lo dico subito, ci sta Mino Spezia, possiamo anche parlarne dopo? Sì, anche diciamo, mi ero imposto di non occuparmi in maniera diretta, ma io sono Monello, accetto, accetto, non mi sottrarrò alle... Bene, mi fa piacere, grazie. Intanto buonasera. Buonasera, buonasera, ben ritrovato. Come sta andando la Trapani Servizi? Siete, giornalisticamente parlando, diciamo, un po' in silenzio, lavorate, lo so che lavorate. Certo, la società sta attraversando un periodo particolare che riguarda soprattutto anche la ricostruzione dei capannoni che hanno subito un incendio ad agosto del 2020, quindi una fase di ricostruzione dell'infrastruttura intesa come impianto di contrada Belvedere e comunque si sta attivando per un ammodernamento dell'impianto, un aggiornamento dell'impianto perché ha ottenuto nel marzo di quest'anno l'autorizzazione a poter continuare e proseguire la propria attività, quindi l'autorizzazione integrata di ammendare la cosiddetta AIA per i prossimi dieci anni. Quindi è una fase molto importante, è una fase molto delicata che vede comunque proiettarsi, vede proiettare questa società nel prossimo futuro in questo settore che è molto particolare. Economicamente però diciamo come bilancio non è messa male? L'ultimo bilancio è stato chiuso in positivo, riteniamo, ci auguriamo di poter chiudere anche il bilancio in corso con questo trend, anche per quest'anno, per il 2021. Ci sono grandi aspettative sulla Trapani Servizi, il sindaco di Trapani in amministrazione più volte ha precisato che ci sono appunto grandi progetti, la si vuole ampliata, più rispondente alle esigenze diverse, molteplici, di un territorio tra l'altro allargato, quindi non solo della città di Trapani. A che punto siamo? Allora, il progetto dell'amministrazione comunale è un progetto ammenzioso, l'amministrazione comunale è il socio unico della Trapani Servizi, è una società pubblica, però è un processo molto complesso. Già abbiamo iniziato un'attività che va, diciamo, collaterale all'attività principale che è quella del trattamento dei rifiuti, che è quella del diserbo sul territorio comunale. Abbiamo fatto orientare otto unità che hanno state distaccate per gestione energetica e ambiente e queste otto unità sono destinate sul territorio di Trapani a fare attività di disceppatura. L'amministrazione comunale ha intendimento anche di affidare e avvalersi della Trapani Servizi per quanto riguarda la gestione del canile di Contrada Cudia, che la stessa amministrazione ha provveduto... È la grande incompiuta per ora questo canile. Sì, l'amministrazione comunale però ha eseguito i lavori di manutenzione della struttura che sarà fruibile a breve, ma anche lì ci sono tutta una serie di passaggi burocratici perché è un tema molto, ma molto complesso, anche lì è delicato. Io ritengo che agli inizi del 2022 già questa struttura potrebbe partire e potrebbe consentire anche un risparmio per le casse comunali, per dove il Comune ha costretto a portare anche i cani che vengono privati dal territorio in strutture che sono lontane da Trapani. In servizi come si dovrà organizzare per gestire il canile? Perché insomma è un... Ma noi già nel corso di quest'anno abbiamo fatto formare il personale, una parte del personale abbiamo fatto formare, è ovvio che stiamo facendo anche uno studio su tutte le... avvalendoci di un consulente, di tutte le figure che sono necessarie per poter gestire la struttura e garantire il benessere degli animali. E' ovvio che a mio giudizio sarà essenziale, comunque fondamentale, mantenere un rapporto col mondo dell'associazionismo, quello vero, quello che sinceramente è impegnato nella cura degli animali. Però vogliamo partire, una cosa chiara, che vogliamo partire con tutto ben definito, ben chiaro, in modo che se si parte si deve partire senza nessun intoppo. È una struttura molto importante che prevede anche, oltre ai classici box per gli animali, anche un ambulatorio veterinario di tutto rispetto, ecco, all'avanguardia. C'è in itinere un costante, diciamo, rapporto col servizio veterinario per avere anche dei suggerimenti, delle indicazioni. Abbiamo fatto degli incontri presso il Comune di Trapani. Ecco, io ritengo che agli inizi del 2022 questa struttura, salvo, diciamo, ulteriori... I impedimenti dell'ultima ora. I impedimenti dovrebbe essere avviato. Questa situazione è certamente importante, garantisce un servizio alla collettività, ma immagino ci sia anche il valore aggiunto dell'econo economico, insomma. Che apporto in termini di benefici economici ci sarà, ipoteticamente, a Trapani servizi? Sicuramente, diciamo, dal punto di vista del territorio, il fatto di non trasferire già... di avere anche... di trasferire quindi cani fuori dalla provincia, di averli qui a portata di mano, quindi di mantenerli in sito, di poter gestire anche direttamente il Comune tramite la propria partecipata, con le associazioni, anche la possibilità di farli adottare, ecco, di non farli vivere sempre lì. Secondo me è un vantaggio che sia economico, ma anche che va incontro proprio al benessere dell'animale. Questo per il territorio, ma invece per la società, per la Trapani servizi proprio? Ma noi siamo una società... Che purtroppo bisogna pensare anche un po' al capitale. Noi faremo il nostro piano industriale, avremo, diciamo, anche noi... Faremo anche noi... ci faremo i nostri conti, ecco. Però vorrebbe sottolineare che siamo una società pubblica e quindi siamo soggetti anche a determinati parametri, a determinati vincoli previsti dalla legge, anche sotto questo profilo. Assolutamente. Come si vince questa battaglia sul contenimento energetico, sui rifiuti? Dove si sta andando? Secondo me, lo ripeto da sempre, secondo me il passaggio fondamentale è insistere sempre sulla raccolta differenziata. Questo, diciamo, è, a mio avviso, l'elemento fondamentale per una corretta gestione del sistema dei rifiuti. Per il resto è competenza della regione siciliana. Cioè, è la regione siciliana che deve indicare le strategie complessive sul sistema dei rifiuti. Per la vita, anche interfacciandosi con le società d'ambito, quindi le SR che ci sono sui territori. Quindi noi abbiamo una funzione diversa. Le posso dire che secondo me, comunque, quello è il tema fondamentale, è la base sulla quale bisogna insistere. Poi dal punto di vista infrastrutturale, ripeto, devono essere altri che debbono lanciare l'input, dare l'indirizzo su quello che vogliono fare. C'è una situazione complessiva dal punto di vista regionale, di emergenza. Si vive effettivamente una situazione di emergenza, quindi lì, ripeto, gli organi competenti regionali devono effettuare una programmazione che possa farci uscire da questa fase continua di emergenza, questa fase emergenziale costante che viviamo ormai da troppo tempo. Ritornando all'allargamento, ampliamento della Trapani Servizi, facendola diventare una società quasi d'ambito, in un certo senso allargato. È una società, diciamo, d'ambito, è l'unica infrastruttura che rende nell'ambito territoriale ottimale, ecco, non c'è la pubblica. La valutazione di Spezia qual è? Entrano altri comuni nella società, nel CDA, quindi si allargano i servizi, si allarga il territorio? Ma io non sono contrario, questo è un compito, diciamo, una scelta del socio unico che è il comune di Trapani. Io quando c'è la compartecipazione o comunque la presenza di altri enti e in un ragionamento condiviso credo che sia un fattore, un fatto positivo, non soltanto per i comuni, ma per la società, Trapani Servizi, ma per l'intera collettività. Cioè non la vedo in maniera negativa, credo che, anzi, su questo si potrebbe ulteriormente insistere. Ma questa nuova fase produrrà anche nuovi posti di lavoro? Ci saranno assunzioni? Ma noi, prima di tutto, ci rivolgiamo al nostro interno, ecco, alle risorse interne. È ovvio laddove dovesse essere... Dovesse essere necessario il ricorso a figure specialistiche che non abbiamo, è ovvio che il ricorso è all'esterno, ma prima noi guardiamo al risorso umano che abbiamo all'interno. Che costano di? Numeri, cioè quanti dipendenti ha la provincia? Noi adesso, non vorrei dire dei nomi di problema, ma credo in impianto abbiamo circa 50 unità lavorative, se non ricordo male, ecco, non ricordo il numero... Va bene, ok, insomma, ma una cinquantina. ...personali staccato presso l'energetica ambiente. Però diciamo, noi ci organizzeremo in questa maniera, prima all'interno e poi eventualmente faremo ricorso all'esterno, e tenuto conto che siamo una società a partecipazione pubblica secondo le procedure di legge. Assolutamente. Come sono andati i bandi per il nuovo direttore? È in corso l'esame delle domande. Ne sono arrivate tante? No, nove. No, no, sono un buon numero, nove, ecco. Bisogna vedere cosa è niente per tante, comunque. È una figura specialistica, è una figura che richiede determinate competenze, ecco, nove, credo che sia un buon numero. Per come me l'ha detto, tante, forse magari si è aspettata che so, 30, 40 domande, no? No, 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 sono più che, insomma, dignitose. Dico, dovete accelerare, però perché serve? Sì, dobbiamo, ha ragione, dobbiamo accelerare, e mi auguro anche lì che ai primi dell'anno di poter avere finalmente il direttore generale della Trabani e Servizi. Vogliamo accantonare un attimo la Trabani e Servizi o è necessario fare qualche precisazione che magari non mi sovviene per ora? Come vuole, come vuole. C'è qualcosa che è necessario specificare, dire, a prescindere dalle domande che non sto nemmeno ponendo? Mi pare che diciamo che in pochi minuti abbiamo dato una panoramica complessiva dell'attività societaria e dell'ambito... E dello stato, insomma... E dello stato delle cose, quindi... e anche dei piccoli ampliamenti che abbiamo fatto in termini delle nostre attività... E allora, a chi non ha aspettato di spogliarsi dal ruolo di Presidente della Trabani e Servizi e di indossare gli abiti dell'amministratore, in particolare quelli dell'ex sindaco di Valderice, perché ci sono delle cose che voglio capire. Io ho affrontato, nell'ultimo mese, con più trasmissioni, ho avuto in studio l'attuale sindaco Francesco Stabile, il consigliere Giovanni Coppola con l'assessore Maltese e in particolare la questione, insomma, l'argomento principale che sta tenendo banco ancora, poco adesso negli ultimi giorni, ma continua ad essere presente, e quello legato al porticciolo di Bonagia, no? Anche lì, la grandissima incompiuta in questo caso di Valderice, tante amministrazioni che si sono succedute, visioni diverse, inizi, ripartenze, bocciature, passi indietro... Oggi in questo periodo il sindaco di Valderice attuale dice beh, grazie alla mia amministrazione, finalmente ci sarà il porticciolo di Bonagia. Tutti gli altri sono venuti qua, non so se avete visto Spezia di trasmissione, carta alla mano, Spezia si è tirata indietro, questo non funzionava, questo l'ha buon pocciato, questo l'ha combinato, solo danni praticamente. No, ma... Sulla vicenda del porto di Bonagia è una vicenda complessa. Mi reddono. Laddove io ho sentito dire negli ultimi giorni delle cose non vere, se lei mi dà il tempo di poter fare un escursus velocissimo... Siamo qua, abbiamo 15 minuti di tempo. Ecco. Il finanziamento per il porto di Bonagia si ottenne ai tempi della giunta tranquida, circa 4-5 milioni di euro, e che prevedeva comunque la realizzazione di un certo porto, una certa idea di porto, che venne poi proseguita e sostenuta dal successivo sindaco che fu il sindaco Lucina Blunda, la quale aveva, tra l'altro, avviato una procedura di progetto financing che prevedeva anche la compartecipazione pubblica. Il comune di Valverice avrebbe messo un milione di euro, la provincia regionale di Trapani di 2 milioni e mezzo di euro. Successivamente si insedio un altro sindaco, Camillo Iovino. Esattamente. Il quale ritenne di volere abolire, abolire quella procedura, cioè bloccare quella procedura, e seguirne completamente un'altra. Ma quella progettualità non era la cosiddetta messa in sicurezza. La progettualità quella originaria o quella nuova? Quella che venne proposta da Iovino non era coerente col finanziamento al suo tempo ottenuto. Tanto è vero che la provincia regionale di Trapani, guidata non da un bolscevico come me, ma da allora, credo, presidente Turano, se ne uscì. Ritirò la propria disponibilità di 2 milioni e mezzo di euro. Mentre prima, quando era guidata la senatola Dali, i soldi rimise. Esattamente, esattamente. Perché non era coerente col finanziamento del patto territoriale e quindi si tirò fuori, dico io anche correttamente, perché quel progetto non era coerente col finanziamento. Insediatasi la Giunta Spezia, noi, siccome in campagna elettorale avevamo detto noi seguiremo quello che ci hanno lasciato per verificare, perché la prima cosa è l'interesse della comunità e realizzare un'opera. Non per partito preso metteremo da parte, noi proseguiremo l'iter che è stato avviato da altri, non soltanto sulla questione del porto di Bonagia, anche su altri aspetti. Ebbene, ci siamo resi conto che quel progetto non era coerente, perché l'abbiamo scoperto poi dopo, non era coerente con il finanziamento, non era coerente col piano regolatore del porto, era impattante sulla parateria di Poseidonia, c'era una discrasia tra gli elaborati progettuali e la situazione che era reale lì della Poseidonia. Lo sa perché lo dico? Perché io ho dato in carico, la mia amministrazione ha dato in carico a una società specializzata a andare a verificare se effettivamente ci fosse questa rispondenza tra gli elaborati progettuali e la parateria di Poseidonia. Quindi quel progetto era totalmente impraticabile. Sa chi che ha fatto perdere il finanziamento della provincia di allora e ha approvato quel progetto di messa in sicurezza impraticabile? Anche l'attuale sindaco che era assessore dell'Aggiunta Iovino. Quindi se responsabilità c'è su certe cose, c'è anche dell'attuale amministratore che non si può tirare fuori da responsabilità. Ecco, che cosa abbiamo fatto poi noi dinanzi a questo stato di fatto? Abbiamo dovuto rinunciare a quel progetto perché ci hanno detto al Ministero che al Ministero noi ci siamo andati. Non avete dove andare e quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione su un'altra strategia che era quella di fare la parola. Io però c'è la questione pure delle varie proroghe date senza mai aver avviato i lavori. Facciamo un passo indietro, no? I lavori tu li avvii se hai un progetto che è canterabile, se può essere eseguito. Ma infatti viene specificato che al Ministero non c'è nemmeno il progetto canterabile. Cioè, non c'è nulla. Avrebbero dovuto fare, peraltro, una variante che non abbiamo trovato agli atti quando hanno fatto la scelta della messa in sicurezza. Quindi l'amministrazione... Avrebbero dovuto fare la variante, avrebbero dovuto fare tutta una serie di attività che non hanno fatto e poi andare a discutere con il Ministero per vedere se comunque quel progetto poteva rientrare nell'idea progettuale. Perché il Ministero perché ti dava i soldi? Ti dava i soldi perché un'opera deve produrre uno sviluppo economico sul territorio. Ha messo in sicurezza un'altra cosa rispetto allo sviluppo economico che intende il Ministero. Per questo non era coerente il finanziamento. Dinanzi a quello che abbiamo trovato, noi abbiamo detto facciamo la banchina di Riva che è poco impattante, è coerente col piano regolatore del Porto, è in linea con l'idea, è in linea con il finanziamento e vediamo di seguire questa strada. Se poi si insedia il sindaco attuale e arriva la revoca e si insedia il 10 di giugno e il 12 di luglio arriva la revoca, io ritengo che avrebbe potuto benissimo impugnare quella scelta, lottare per tenere il finanziamento. Ma detto questo, io mi chiedo, ma dopo tre anni e mezzo, dopo tre anni e mezzo, il sindaco attuale esce fuori dicendo abbiamo presentato il progetto per il Porto. Benissimo, io sono contento. Io sono contento, e mi auguro che questo progetto venga realizzato. Ci mancherebbe, tanto è vero che il mio partito, il Partito Democratico, siamo qui disponibili a dare una mano d'aiuto, come è giusto che si faccia, che faccia anche una forza d'opposizione per chi prima viene nell'interesse del Paese. Beh, insomma, avete riempito la città più vuote di volantini. Sì, ma infatti, secondo me, questo stimolo è servito al sindaco per accelerare. Dopo tre anni e mezzo, acceleri. Perché se il nostro progetto, se quello che avevamo fatto noi era sbagliato, e non lo era. Ok. Perché il responsabile di quello che è caduto è anche il sindaco attuale. Quando era il sessore con il vino. Che tra l'altro, guardi, le ricordo, ha fatto parte della mia maggioranza, il sindaco attuale ha fatto parte della mia maggioranza e non ha detto mai una parola, un'osservazione sulla vicenda del Porto che abbiamo trattato più volte nella regione di maggioranza. Era lì. Era seduto a fianco a me. Ha sostenuto le scelte. Ha votato gli atti. Quindi, di cosa stiamo parlando? Ora voglio dire io, hai presentato questo progetto? Il Partito Democratico ha posto, secondo me, correttamente delle domande. Ha detto, possiamo sapere questo progetto? Chi lo ha firmato? perché se lo prendiamo quello della messa in sicurezza che qualcuno oggi, dopo tutto questo tempo, avrà dovuto aggiornarlo. C'è una delibera di giunta con la quale la giunta ha approvato questo progetto? Quindi, chi lo ha redatto? Chi lo ha approvato? Non so se va inserito nel piano gennale delle opere pubbliche. È possibile sapere a quanto ammonta questo progetto? È possibile da quale fonti di finanziamento vuoi fare il ricorso per realizzarlo? Perché altrimenti è facile dare notizie che abbiamo presentato il progetto sul portale. E vabbè. E qua in trasmissione addirittura sono andati avanti e hanno detto dicembre vedrete che avremo. Ma io me lo auguro. Io me lo auguro. Io mi auguro che entro la prossima estate già i lavori possano essere già quantomeno iniziati per il porto di Bonagia. Ma perché c'è stata questa contrapposizione? Questo sincerarsi da parte di... Ma non lo so. Noi abbiamo testo sempre la mano rispetto alle grandi questioni che riguardano il Paese. Poi ognuno può avere la propria visione critica sulle questioni. Ma non capisco perché il sindaco di Valderice l'unico obiettivo che ha è parlare delle cose che non andavano dalla precedente amministrazione di cui ha fatto parte. Non lo capisco. A cosa serve? A cosa serve? se tu parli solo esclusivamente di quello che hanno fatto o non hanno fatto gli altri ma scusa è questo il compito del sindaco è quello di indicare una strada alla propria comunità abbracciarla tutta perché non sei il sindaco di una parte sei il sindaco di tutti e di avere anche la capacità di comunicare quello che sta avvenendo nel Paese in termini anche di progettualità poi se vuoi essere d'accordo o non d'accordo per carità ma è doveroso dare delle risposte ma non il Partito Democratico ai cittadini ecco io su un'altra cosa se posso se lei me lo consente sostenere sostenere che quando è arrivata questa amministrazione ha trovato Beirut ma si è vero ha detto non ho trovato non ho trovato progetti niente cassetti vuoti è una frase anche sull'efficientamento energetico ma guardi io allora e possiamo fare un confronto pubblico anche su questo è tutto documentato quando mi sono insediato il 10 giugno del 2013 i cittadini valdevicini ricordano hanno compreso anche l'attuale amministrazione che il palazzo municipale era transennato il prospetto era a chiazze ecco io ho ereditato una situazione del campo sportivo di misericordia laddove c'era l'INAIL ci aveva fatto circa 60 prescrizioni perché era chiuso ho ereditato un progetto che riguardava il campo sportivo di misericordia dove mancava il cofinanziamento del comune di Valderici non era stata prevista la copertura della tribuna non erano state previste le torri faro che noi poi abbiamo fatto tramite un finanziamento del credito sportivo io ho ereditato un comune che aveva quattro parametri di deficitarietà certificati della corte dei conti significa che eravamo in fase quasi di dissesto l'ho lasciato con una sottoscrizione con un passaggio di consegne formale dinanzi ai revisori dei conti e ai responsabili dei servizi finanziari con i conti in ordine ecco possiamo ecco si durre il dibattito soltanto a queste cose o costringere comunque me che vengo tirato in ballo a parlare del passato da fastidio pure a me ma ovviamente però alcune cose brucia perché queste cose non possono essere dette non può un pubblico amministratore dire queste cose che sono fuori dalla realtà ecco un pubblico amministratore deve sapere anche guardare avanti avere anche uno stile diverso guardare al futuro progettare indicare adesso quello lo dobbiamo confrontarci ma possiamo confrontarci per esempio sul fatto che si porta come notizia il fatto di avere presentato il progetto per la penita comunale per me è un'ottima cosa però bisogna pure dire che l'amministrazione Svezia aveva già presentato aveva già elaborato un progetto per la penita comunale quello presentato all'amministrazione stabile presento una variazione ma non che gli altri non hanno fatto nulla però io mi chiedo una cosa dinanzi alla grande opportunità rappresentata dalla PNRR era o no opportuno fare un progetto che potesse riguardare la penita contestualmente il terreno comunale prevedendo magari se vogliamo una copertura mobile la possibilità di un parcheggio quindi pensare anche in un'ottica più complessiva quel luogo è possibile in questa città pensare al completamento della rete fognaria data alla grande opportunità dei fondi che possano arrivare in maniera in materia ambientale è possibile pensare ad un ammodernamento della rete idrica un aggiornamento della rete idrica magari finanziando il telecontrollo ottenendo il pensamento per il telecontrollo e finalmente fare arrivare l'acqua ogni giorno ai cittadini di Valderice possibilmente pulita su queste cose secondo me un sindaco con l'opposizione comunque con tutta la comunità e la comunità politica deve confrontarsi ma parlare sempre del ho cercato di screditare il passato quando così non è in realtà con i fatti ma a che cosa serve? qual è la grava della cuna secondo Spezia di Francesco Stabile Sindaco? no 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 io guardi non voglio entrare in polemica più di tanto perché non pensi ad amministrare poi ci saranno le elezioni i cittadini si pronunceranno gli daranno ragione gli daranno torto ma è importante amministrare e amministrare non lo sta facendo? se arriva non lo sta facendo? ma guardi io ritengo che ci siano delle cose che andrebbero fatte con maggiore decisione cioè se arriva l'acqua sporca a casa dei cittadini o non arriva l'acqua per settimane un sindaco ha il dovere di protestare nei confronti di tutte le autorità competenti compreso il presidente della regione seppur può essere della sua stessa parte politica io l'ho fatto quando c'è il governo Crocetta perché a me interessano i miei cittadini da sindaco la mia comunità io la debbo difendere la mia comunità tutta la debbo difendere e non posso tentennare su certi su certi temi quindi io non voglio assolutamente aprire fronti polemici perché non mi interessa me lo ero ripromesso e da anni io non voglio rispondere faccio finta di nulla ma rispetto a quello che ho sentito nelle ultime settimane operazione ripristino di verità definita così Giovanni Coppola ma questa verità è nell'interesse non mio personale ma anche diciamo dei cittadini perché l'operazione di Italia l'ho fatta anche nei confronti dei cittadini perché non può passare il concetto che tutto quello che era precedente non andava buono sono arrivato io ed è tutto perfetto no c'eri pure tu e sei tu responsabile anche di certe scelte che hanno messo in ginocchio determinate progettualità e che ci hanno fatto perdere tempo ora dobbiamo sbarciarci tutte le maniche prima l'amministrazione e compresa l'amministrazione per cercare di fare sì che la città di Valderice possa dotarsi di infrastrutture importanti ma davvero c'è al politico adesso parlo davvero c'è la volontà da parte vostra di arrivare a una collaborazione guardi non io direttamente ma dirigenti del Partito Democratico hanno incontrato il sindaco all'inizio del risultato per dire siamo disponibili a discutere su alcune cose a fare una sorta di passaggio di consegne che normalmente si fa c'è stata chiusura rispetto a questo c'è stata una chiusura io sono sempre disponibile a discutere a dare il mio contributo ma credo lo faccio non credo ma anche il Partito Democratico credo che questa disponibilità non verrà mai meno a discutere nell'interesse della comunità valdericina poi ognuno rimarrà critico su molti altri aspetti ma laddove ci sono questioni fondamentali ma combino il sindaco anche mettere assieme tutti non dividere ma con argomenti che sono assolutamente destituiti di fondamenti per chiudere diciamo al sindaco stabile sindaco di valderic guarda che ti ho lasciato questa progettualità questo finanziamento non lo perdere quale? no ma noi abbiamo lasciato guardi un vero e proprio parco progetti noi abbiamo fatto un progetto che quando riguardava il recupero di un bene confiscato che era la Villa Coppola abbiamo lasciato un progetto che riguarda il rifacimento della scalinata della piazza Sandro Pertini della piazza sottostante dello spazio a verde vicino alla scuola Falcone adesso diciamo ne dimentico anche qualcuno ci sono delle progettualità per carità magari ce ne possono essere altre si può avere anche una visione diversa su alcune scelte ma questo ci può stare in politica figuriamoci ma dire che tutti gli altri non hanno fatto nulla e che ora no questo io non lo posso accettare non l'ho fatto nemmeno nei confronti del mio predecessore io sono qui attenzione anche a riconoscere l'attività perché l'ho seguita l'ho proseguita perché essere un bravo amministratore non significa soltanto programmare un'attività che è importante ma significa seguirla seguirla e portarla a compimento che le assicuro non è facile o non è sicuramente la parte più facile perché questo è quello che ha caratterizzato la mia amministrazione di cui ha fatto ha fatto parte anche l'attuale sindaco con un assessore da lui indicato e che ha condiviso tante scelte dire sulle muciare questo me lo faccia dire perché questa è una cosa e poi chiudiamo dire sulle muciare noi siamo stati bravi gli altri non hanno fatto nulla non è così perché noi abbiamo lasciato 25 mila euro appostate nel bilancio come compartecipazione del comune di Valderice rispetto ad un'intesa con un'associazione che si era impegnata a realizzare i lavori e che avrebbe dovuto fare poi nel frattempo avevamo anche un'intesa con la sovrintendenza addirittura che aveva compiti di sorveglianza rispetto a questa attività secondo me dire che gli altri non hanno fatto nulla è sbagliato io oggi potrei dire guarda se tu prosegui quel lavoro avresti realizzato sempre comunque non dopo tre anni avresti recuperato le muciare e possibilmente con i 100 mila euro del flag che hai destinato per fare avresti potuto fare un'altra cosa su Bonagia e potrei aprire questo fronte polemico è giusto? in un certo senso abbiamo accennato ad aprirlo ma voglio dire a che serve però? a che cosa serve? andiamo avanti ai cittadini poi alla fine interessa che le cose si facciano però dire che gli altri non hanno fatto nulla ripeto è di cattivo gusto è un pubblico amministratore specialmente quando ha ruoli apicali dovrebbe astenersi da certi tipi di affermazioni e di considerazioni siete già in campagna elettorale? non spero io non sono personalmente direttamente non sono assolutamente abbiamo dato abbiamo dato ho fatto altre scelte di vita sono impegnato nella mia professione in questa esperienza di natura manageriale ma la ringrazio per avermi dato questo spazio e ringrazio questa emittente perché sono stato chiamato in causa anche in maniera secondo me pesante e quindi una replica su questo aspetto era a mio giudizio doverosa e dovuta e vi ringrazio ringrazio lei ringrazio anche Teresud e non replicherò guardi lo dico già lo dico già sin da adesso io non replicherò più a nulla perché non parlerò più di queste cose la puntualizzazione è stata fatta sono abituato nella mia vita a guardare avanti l'interessore è di guardare appunto avanti e di trovare le giuste intese per il bene della collettività ma non a parole ma non a parole ma con fatti concreti e solo con noi Mino Spezia Presidente della Trapani Servizi ma anche ex Sindaco di Valderice grazie grazie a voi non cambiate canale perché abbiamo la seconda parte di Respubblica tra pochi secondi grazie a voi grazie a voi grazie a voi